ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco brinti docs doc generici srl ultimo aggiornamento 17 settembre 2021 cosa brinti docs confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere brinti docs durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa a brinti docs brinti docs a un farmaco a base del principio attivo prinzolamide più timololo appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico sostanze beta bloccanti e commercializzato in italia dall'azienda doc generici srl brinti docs può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni brinti docs 10 mg barra ml più 5 mg barra ml collirio sospensione 1 flacone con contagocce 5 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare doc generici srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo brinzolamide più timololo gruppo terapeutico antiglaucoma forma farmaceutica collirio indicazioni riduzione della pressione intraoculare pio in pazienti adulti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare per i quali la monoterapia produce una riduzione della pio insufficiente vedere paragrafo 51 posologia posologia uso negli adulti inclusi gli anziani la dose a di una goccia di brinti docs nel sacco congiuntivale dello barra gli occhio barra affetto barra i due volte al giorno l'assorbimento sistemico viene ridotto accludendo il condotto naso lacremale o abbassando la palpebra in questo modo si può ottenere la riduzione degli effetti indesiderati sistemici e l'aumento dell'attività locale vedere paragrafo 44 se si salta una dose proseguire il trattamento con la dose successiva come programmato la dose non dovrà essere superiore ad una goccia due volte al giorno per occhio affetto quando brinti docs viene usato in sostituzione di un altro medicinale antiglaucoma si deve interrompere la somministrazione dell'altro medicinale ed iniziare la terapia con brinti docs il giorno successivo popolazioni speciali popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di brinti docs nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 0 e 18 anni non sono state ancora stabilite non ci sono dati disponibili compromissione epatica renale non sono stati condotti studi con brinti docs o con gli ricontenenti timololo 5 mg barra ml in pazienti con compromissione epatica o renale non ha necessaria alcuna modifica del dosaggio in pazienti con compromissione epatica o in pazienti con compromissione renale brinti docs non ha stato studiato in pazienti con compromissione renale grave clarence della creatinina 30 ml barra min o in pazienti con acidosi ipercloremica vedere paragrafo 43 poi cacopirai labrinzolamide ed il suo metabolita principale sono escreti in modo predominante dalle rene brinti docs controindicato in pazienti con compromissione renale grave vedere paragrafo 43 brinti docs deve essere usato con cautela in paziente con grave compromissione epatica vedere paragrafo 44 modo di somministrazione per uso oftalmico i pazienti devono essere informati di agitare bene il flacone prima dell'uso dopo aver tolto il tappo se l'anello di sicurezza sia allentato rimuoverlo prima di usare il prodotto per impedire la contaminazione della punta del flacone contagocce e della sospensione si deve porre attenzione a non toccare le palpebre le aree circostanti o altre superfici con la punta contagocce del flacone istruire i pazienti a conservare il flacone ben chiuso quando non lo si utilizza in caso di uso concomitante di piaghi un medicinale per uso oftalmico topico i medicinali devono essere somministrati con un intervallo di almeno cinque minuti gli unguenti oftalmici devono essere somministrati per ultimi controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 ipersensibilità ad altri beta bloccanti ipersensibilità alle sulfonamidi vedere paragrafo 44 malattia reattiva delle vie aeree inclusi asma bronchiale e un'anamnesi di asma bronchiale pneumopatia ostruttiva cronica grave bradicardia sinusale sindrome del seno malato blocco seno atriale blocco atrio ventricolare di secondo o terzo grado non controllato con pace maker insufficienza cardiaca manifesta o shock cardiogeno rinite allergica grave acidosi ipercloremica vedere paragrafo 42 compromissione renale grave avvertenze speciali e precauzioni di impiego effetti sistemici labrinzolamide e il timololo vengono assorbiti per via sistemica a causa della componente beta bloccante adrenergica del timololo possono verificarsi gli stessi tipi di reazioni avverse vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono stati effettuati studi di interazione tra farmaci con brintidox brintidox contiene brinzolamide un inibitore dell'anidrasi carbonica e sebbene somministrato per via topica viene assorbito a livello sistemico disturbi vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere brintidox insieme ad altri farmaci come a euro salmei da euro a euro saltia zema euro a euro sangi zema euro a euro sbidin da euro a euro sbrava euro a euro sdronco vale as sciroppo euro a euro sdronco vale as soluzione a euro a euro sdronco vale as sospensione a euro a euro sbutta per la euro a euro scleni il compositum 0,8 mg più 1,6 euro a euro scleni il compositum a euro a euro sbilabella a euro, a euro sbiliti a zem doc generici a euro, a euro sbiliti a zem mega euro, a euro sbiliti a zem milan generics a euro, a euro sbiliti a zem ratio farma a euro, a euro sbiliti a zem sanduza a euro, a euro sbilzene a euro, a euro sinesala a euro, a euro siso optin, compressa rilascio modificato, compressa rivestita, compressa rivestite a euro, a euro siso optin, soluzione, uso interno, a euro, a euro smeni elisa a euro, a euro snaosa euro, a Euro splenare, a Euro salbutamolo.com e i pretropiobromuro GAURO, a Euro salbutamolo sandoz, a Euro, sozeria, a Euro, stildiema, a Euro, sventoline, sciroppo a Euro, a Euro, sventoline, soluzione a Euro, a Euro, sventoline, sospensione a Euro, a Euro sverapame il doc generica Euro, a Euro sverapame legga Euro, a Euro sverapame il ex ala Euro, eccetera. chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere brintidox durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere brintidox durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza non ci sono dati adeguati relativi all'uso oftalmico di prinzolamide più timololo nelle donne in gravidanza studi condotti sugli animali con brinzolamide hanno mostrato tossicità riproduttiva in seguito a vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari brintidox altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari l'annebbiamento transitorio della vista non cacopiraita altri disturbi della visione possono pregiudicare la capacità di guidare e utilizzare macchinari se al momento dell'installazione si verifica un annebbiamento della vista il paziente deve attendere che la vista torni nitida prima di guidare e utilizzare macchinari gli inibitori della nidrasi carbonica possono diminuire la capacità di eseguire operazioni che richiedano attenzione mentale e barra o coordinazione fisica vedere paragrafo 44 effetti indesiderati riepilogo del profilo di sicurezza negli studi clinici le reazioni avverse pia comuni sono state visione offuscata irritazione oculare dolore oculare che si sono verificate approssimativamente nel 2 per cento fino vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio in caso di ingestione accidentale i sintomi del sovradosaggio da beta bloccanti possono includere bradicardia ipotensione insufficienza cardiaca e broncospasmo in caso di sovradosaggio con brintidox collirio il trattamento deve essere sintomatico e di supporto a causa della brinzolamide possono verificarsi squilibrio elettrolitico sviluppo di uno stato di acidosi e possibili effetti a livello del sistema nervoso centrale devono essere tenuti sotto controllo i livelli di elettroliti nel siero in modo particolare il potassio ed i livelli di ph del sangue gli studi hanno evidenziato che il timololo non si dializza prontamente proprietà farmacodinamiche categorie farmacoterapeutica oftalmologici preparati antiglaucoma e miotici codice atc s01 ed a 51 meccanismo d'azione brintidox contiene due principi attivi brinzolamide più timololo malleato questi due componenti riducono la pressione intraoculare pio elevata proprietà farmacocinetiche assorbimento in seguito a somministrazione topica oculare brinzolamide più timololo vengono assorbiti attraverso la cornea e nella circolazione sistemica in uno studio di farmacocinetica soggetti sani hanno ricevuto brinzolamide per dati preclinici di sicurezza brinzolamide i dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo con la brinzolamide sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica tossicità a dosi ripetute genotossicità e potenziale cancerogeno studi elenco degli eccipienti benzalconio cloruro mannitolo e 421 carbone di sodio e detato sodio cloruro acido cloridrico per l'aggiustamento del ph sodio idrossido per l'aggiustamento del ph acqua depurata farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di brinzolamide a base di brinzolamide più timololo sono a zarga brinzolamide timololo accord brinzolamide timololo e g brinzolamide timololo milan fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato